Buon mattino Chloe, perché ti sei svegliata così presto? Ho fatto un sogno bellissimo che ti vorrei raccontare, però visto che hai parlato non me lo ricordo più. A proposito, cosa c'è per colazione? I miei deliziosi muffin e il latte del nonno. Adoro i muffin, soprattutto quello al cioccolato! Buongiorno mamma, che ore sono? E' l'ora di fare colazione! Tesoro, potresti svegliare tua sorella Jessica? Certo, ma dov'è papà? E' già andato a lavorare quando ancora dormivamo. Ok, vado! Su, svegliati Jess, vieni a fare colazione che se no non posso mangiare. Scendi dal letto piccoletta, vai che arrivo. Chloe, vuoi dell'altro latte? Ce ne sono ancora due litri in frigo. No, grazie, forse ho mangiato troppo. Allora vai in camera tua e vestiti per andare a scuola. Uffa, oggi è solo martedì, mancano ancora dieci giorni al weekend. Dieci? Ma mancano quattro giorni al sabato, cosa ti insegnano le maestre a scuola? Anch'io devo vestirmi, vado a scuola con l'una. Siamo rimasti solo noi due, Domenico. Dimmi, vuoi un altro tovagliolo? Ma guarda che ore sono! Devo andare anch'io a scuola. Come sto? Sono bella? Ehm, sì, solo che devo rifarti l'acconciatura. Sarà l'amica di Jessica, arrivo! Buongiorno signora, è pronta Jess? Aspetta, glielo chiedo. Tesoro, hai finito! Eccomi. Ciao Luna, ora possiamo andare. Ciao a tutti quelli che non conosco. Ciao fantasma! Aspetta, prima ti devo lasciare il pranzo. Ecco a te. Dai la pizza a tua sorella, visto che non se la vuole mai portare. Tra poco diventerà uno stuzzicadenti. Va bene, ciao mamma. Giovedì c'è il test di fisica. Odio quella materia, soprattutto perché è troppo complicata. Ma neanche troppo, basta studiare. Il problema è che non la capisco, quindi non riesco a studiare. Ecco perché sempre prendo brutti voti. Invece tu sei la studentessa modello, prendi sempre ottimi voti. Se vuoi ti posso aiutare a studiare. Grazie mille Teso. A proposito, oggi compi 17 anni, tanti auguri. Grazie per essertelo ricordata, non come la mia famiglia. Cosa? Ma tua madre è la più grande festaiola del mondo, nessuno la batte. Lo so, è proprio per questo. Quindi mi mancano solo da pulire il pavimento, lavare i piatti, fare la spesa, cucinare il pranzo e fare il bocato. Non proprio un gioco da ragazzi. Oggi sostituirò la metta di matematica che è il raffreddore. Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Adesso correggiamo l'esercizio numero uno sul quaderno. Chi vuole farlo? Io! Io, prof! Prof, anch'io mi offro! Spero che la prof non mi chiami. Cloessa è offerta volontaria, vai! Ehm, allora... Fai l'analisi logica che hai svolto. Allora, nella frase Giulio ha mangiato la pizza... Giulio, ehm... Ah, un complemento verbiale di modo! Ma Giulio non è soggetto? Infatti! Ma Chloe, hai sbagliato tutto! Fammi vedere i tuoi esercizi! Sono rovinata! Dunque... Oggi test di algebra sorpresa! Adesso prendo le schede e ve le consegno. Intanto prendete le vostre penne. Domenico, hai studiato per il test? Ma no! Perché l'ultimo test di algebra sorpresa era ieri! Comunque dovevi studiare come faccio io. Marta, puoi farmi copiare? No, la prossima volta studierai. Oh no! Mi sono confuso e ho portato i test dell'altra classe. Allora lo faremo un'altra volta. Non voglio sempre mangiare per l'intervallo. Cosa stai facendo? Voglio fare un regalo a mia sorella visto che oggi è il suo compleanno. Idea! Potremmo fare un disegno con una scritta tipo Tanti auguri? Sì! Iniziamo subito! Prendi le matite colorate! Ciao Rebecca! Hai fatto la torta per mia figlia? Certo, Rossella! Te la porto subito! Ecco a te! Grazie! Sarò ottima! Adesso sono a casa... ...e preparo i biscotti con le scaglie di cioccolato. Prendo gli ingredienti così posso cucinare! Ok! Abbiamo finito le lezioni! Ora potete andare a casa! A domani! Se vuoi puoi venire a fare i compiti da me! Sì! Certo! Così mi aiuterai a studiare fisica! Allora andiamo! Li faremo in camera mia e sicuramente per merenda mamma ci porterà come sempre spermuta e pane con marmellata! Vengo volentieri! Amo pane e marmellata! Sono tornato! Ciao! Aiutami a portare i biscotti, la torta e le decorazioni qui in soggiorno per la festa! Ma li mettiamo in vista o li nascondiamo? Ma questa è una festa sorpresa! Porti i palloncini e mettili sotto il tavolo e dietro il divano! Ciao! Posso aiutarvi con qualcosa? Sì! Aiutami a portare i palloncini! E infine devi fare 64 meno 3! E' facile! Ora prova te! Ehm... Devo fare 36 meno 5 per 16... No aspetta non era così! Non ce la faccio più! Non capisco! Ho sentito che Luna non riesce a fare i compiti! Qui serve una bella spinta! Una buona merenda a base di biscotti e tirerà su il morale! Non ce l'ho spremuta? Sì! Però mi sono avanzati dei biscotti perché oggi avevo la voglia di farli! Grazie Rossella! Adoro anche i biscotti! Com'è andata oggi a scuola? A parte la nota che ho preso di italiano tutta a posto! Non ti chiedo il perché solo perché oggi è il compiliano di tua sorella! Ah! Giusto! Io e Megan l'abbiamo fatto un bigliettino di tanti auguri! Brave! Che mi dici di invitarla a festeggiare con noi? Sì! Sarebbe fantastico! Vado il telefono! Chi ha detto? Sì! Viene! Sono così emozionata! Ah! Questo era l'ultimo! Sono così stanco! Quello che ci resta da fare è aspettare la sera per festeggiare! Bene! Avete finito! Riposatevi pure! Il pomeriggio è ancora lungo! Vuol dire che mi farò un riposino! Sono così affaticato! E questo era l'ultimo problema! Non so quanto tempo è passato! Un'eternità! Usciamo fuori a prendermi una boccata d'aria! Ottima idea! Ciao mamma! Io e Luna andiamo a fare una passeggiata! Fantastico! Tornate il più tardi possibile ma prima di cena! Ehm... ok! Ciao Megan! Vieni! Lì ci sono dei palloncini? Sì! Possiamo giocarci mentre aspettiamo! Forte! Io prendo quello giallo! Sono sicura che stanno preparando qualcosa per il tuo compleanno! Non possono dimenticarlo! Lo festeggiano ogni anno! Lo spero! Non mi piace essere messo da parte! Che ne dici di tornare a casa e dirglielo in faccia se loro se lo sono dimenticati! Ok! Mi stavo già annoiando! Domenico! Sveglia tuo padre! Ok! Vado! Papà! Vieni Meg! Nascondiamoci vicine! Nascondeteli anche voi! Proviamo a infilarci qui! Bentornati ragazze! Bentornati ragazze! Ma dove sono tutti? Sorpresa! Sorpresa! Allora vi siete ricordati del mio compleanno? Ma certo! Non me lo sarei mai dimenticata! Ci sono anche la torta e i biscotti sul tavolo! Grazie mamma! Anche io e Meg ti abbiamo fatto un regalo! Tieni! Grazie ragazze! Siete fantastiche! Che amori! Ho voglia di mangiare tutta la torta! Chloe aspetta! No! Grazie a tutti.